Io non so perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti, molto rincoglioniti, è così, e non so se sto in diretta o se faranno polemica antifattista, ma è la verità, è un popolo strano, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti, molto rincoglioniti, è un popolo strano, è un popolo strano, è un popolo strano, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti, molto rincoglioniti, è un popolo strano, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti, molto rincoglioniti, è un popolo strano, è un popolo strano.